Questo ovviamente non potevamo saperlo all'inizio perché la scienza non è in grado di predire il futuro. La durata della protezione conferita da un vaccino completamente nuovo si conosce solo con il tempo. Eh sì, questo grande scienziato di nome Burioni ha perfettamente ragione. La scienza non è magia, non è stregoneria, non è approssimazione, non ha la sfera di cristallo quindi non può prevedere il futuro. Allora dovrebbe spiegarci a cosa servono i laboratori dove si testano i nuovi medicinali sulle cavie. A cosa servono? Questo ovviamente non potevamo saperlo all'inizio perché la scienza non è in grado di predire il futuro. La durata della protezione conferita da un vaccino completamente nuovo si conosce solo con il tempo.